Prati E ho capito? Quante persone E quanti erano una volta? Tutte quelle cose lì erano tutte piene Avevano tutte le bacche Cravi e tutte piene da gente E adesso che più nessuno? Quante persone Ma andai già a Varal? Andai già a lavorare a Varal? Ma non ho più di lavorare Ma dopo Ma qui dici qui di Pra Andai via tutti ti manchi anche come lì la sella Senti che lì è la sella Si Lì due persone In tutto andai via, in tutto andai a cercare un'altra vita Poi in più fai di famiglie Sai cosa lì? Si sposa un più il più nessuno E adesso la stifrazione Come con la fombra che lì La stagione, la prima stagione Lì ancora tre persone I fiori vanno via E vengono da E vengono da Ma se noi vengono da Varal Ma per esempio D'està viene un po' più su di su? Eh D'està viene da gente Ma di rimela o anche di fiori che vengono in vacanza? Che vengono in vacanza? Si ma poi Sai che ci sono attraversati Ah Sai Su internet Eh Si si C'è gente che arriva con gianni Della colma Ah vanno in giro in montagna E vanno Partono da Omenia E vanno Vanno A A Barranca Sai dove è la Barranca? No su non Su bella Ah Ho capito Arrivano su lì in quell'alpe lì E vanno a fare tutto il giro Ho capito Allora Grazie De l'informazione Adesso andate a mangiare Adesso andiamo a mangiare Perché Ma chi oggi? In due che tre o un Andai mamma In una terza allora Sedu